Ehi la ciurma! Io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Maintest Ita! Eccoci qua al query, come potete vedere ho dovuto modificare un po' di roba, vedete le fence là in fondo? Ho messo delle fence qua comunque per protezione intorno, per evitare che passeggiando uno cada dentro un precipizio di mille blocchi, ecco. E in più, qua forse dovrei sistemare, no, gg, va bene. In più ho scoperto a mie spese il fatto che il query non scava dove c'è acqua, quindi non scaverà neanche dove c'è lava, speriamo di non incontrare lava, se no sono guai. Altrimenti bisogna poi andare a sistemare, insomma. Quindi ho dovuto bloccare tutto là, vedete tutta quella cobblestone che ho messo, per evitare che l'acqua entrasse, perché altrimenti c'era praticamente il 90% della zona che era invasa dall'acqua, quindi lui non scavava sotto l'acqua. Come potete vedere anche non scava se ci sono dei blocchi sopra. Quelli là sotto glielo ho scavati io, però quelli là sopra, non avendogli li tolti, lui... No, 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 stavo dicendo una cavolata. Qua, ecco, questa zona qua. Come potete vedere in questa zona non scava. In questa zona lascia i blocchi qua, perché sopra ci sono dei blocchi e allora non va a guardare sotto, ecco, diciamo, se ci sono dei blocchi sopra. Allo stesso modo se io dovessi mettere un blocco qua, diciamo, ci si formerà la pila là e non scaverà più in giù di quello. E lo stesso appunto fa con l'acqua e credo anche con tutti i tipi di liquidi, cioè nulla ci fa pensare che se per caso incontra la lava non debba fare la stessa cosa. Infatti credo proprio che farà la stessa cosa. E cos'è che volevo dire? Niente, quindi ho dovuto agire in questo modo. Se per caso troverà un blocco di lava, anche solo un blocco di lava sarà un gran casin. Quindi noi speriamo che non ci sia lava qua sotto per evitare appunto che ci sia un casino, ecco. Perché se incontra la lava anche solo un blocco, poi dopo, fin tanto che scende, si espande. Perché sapete come funziona con i liquidi? Fin tanto che c'è una cascata, diciamo, il liquido continua a espandersi. Oltre gli otto blocchi, ecco. E quindi invaderebbe tutto e si fermerebbe. In pratica a un certo punto non scaverebbe più niente. Dovremmo andare giù a mano e rimettere a posto tutta la roba e far ripartire poi il quarry. E quindi è un po' un casino. Soprattutto se lo incontra tra, non lo so, 500 blocchi. Scendere giù di 500 blocchi non sarà una cosa particolarmente comoda. E in più, oddio, stavo finendo di sotto. E in più, non so neanche se ce ne accorgiamo da qua. Cioè, probabilmente vedremo là che non sta scavando più niente. Allora dovremmo fare, che ne so, tipo mille triliardi di scale per andare giù sotto e vedere che cosa cavolo è successo. E sistemare, diciamo, il tutto. Poi con la lava sarà un po' un casino. Dell'acqua. Speriamo che non succeda, insomma, ecco. Detto questo, vi faccio vedere un attimo che cosa ha trovato finora. Non è un gran che, ma anche perché sono i primi strati. Però, come potete vedere, ha già iniziato a trovare qualche minerale. E forse sono solo un paio di strati che inizia a trovare minerali. Il cactus, vabbè, gg, posso anche togliere. Il lilliped pure, chi se ne frega del lilliped. Ma il lilliped lo butto anche via. Il resto è praticamente tutta cobblestone sandstone e desert sandstone e desert cobblestone. Un po' di sabbia, niente di che, un po' di grave. No, questa è la taglia che l'ho messa io quando ho ripulito tutto. Per farlo ripartire e qualche cosa di copper, niente di che. Ma pian piano avrà un po' di roba. E quindi, anche per evitare di mettere sempre tutte quelle ceste e tutti quei cavi ogni volta che sposteremo il query. Anche se non credo che lo sposteremo tanto spesso. Anche perché questo non è un server. Quindi non è aperto, cioè, costantemente. È un mondo di single player. Quindi il query scava solo mentre ci sto giocando. Quindi solo quando sono qui a fare qualche lavoro. Non so quanto effettivamente scaverà... Perché è bugato qua? Ogni tanto si buggano. Ok. E quindi, buono. Quello che volevo fare era di fare dei teleport tube. Dei teleport pneumatic tube segment. E fare una specie di stanza, diciamo, dello smistamento. Una stanza di smistamento di quello che riceviamo. In modo che una parte, tipo la cobblestone, la mandi qua sotto. Con un altro teleport tube che arrivi qua. Con dei tubi che passano sopra le ceste e distribuiscono in tutte le ceste, diciamo, la cobblestone. Fino a che non sono piene tutte le ceste. Con la desert sand, sand, eccetera, eccetera. Direi che le manderei in una chest... Forse potrei mettere una gold chest qua apposta solo per quello. Forse qua, non lo so. E... E i minerali invece di mandarli laggiù in fondo in modo che così vengono trattati e vengono portati qua direttamente in automatico a casa. I diamanti invece, i mese... C'è il mese... Acaline, Alatro, Arol, Calinite, Talinite, Uranio e Clay qua. Clay non credo che ce ne sarai in realtà. Vabbè, comunque, quello bisognerà poi vedere nella stanza di smistamento. Io metto solo un teleport tube là in fondo, che è collegato a un teleport tube della stanza di smistamento. E nella stanza di smistamento, appunto, ci sarà tutta la roba. Poi la roba mista, diciamo, andrà in una chest a parte, ecco. La stanza di smistamento non sono molto sicuro su dove farla. Nel senso che un'idea era quella di fare un piano in più di questa casetta, ma... Non lo so, la cosa non mi ispira particolarmente. Anche perché tutto il mondo non l'abbiamo sviluppato molto in alto, cioè finora. Non abbiamo fatto edifici particolarmente alti, a parte la casetta sull'albero, perché l'albero c'era già. Quindi non... Non lo so, abbiamo sviluppato più che altro della roba in basso. Quindi non lo so, potrei magari fare una stanzetta, l'idea che mi è venuta in mente, è quella di... Scusate, ho una voce nasalissima, lo so. E me ne scuso con voi, ma... Sono un po' raffreddato, quindi abbiate pazienza. Si potrebbe fare una stanza qua sotto, ancora più in basso, dove appunto fare la stanza dello smistamento. Non so quanto sia esteticamente carino. Carino. Oppure mettere un'altra stanza vicino alla stanza dei minerali. Andiamo a vedere un attimo... Hai chiuso la porta, perfetto. Andiamo a vedere un attimo la... Dalla casetta sull'albero, che cosa ci dice, ecco. Qual è la nostra situation. Perché effettivamente non richiederebbe particolarmente tanto spazio una... Una stanza di smistamento. Sarebbe più che altro dei tubi e dei tubi. Ecco, forse qualche chest... No, non è anche delle chest, dei tubi e dei tubi. Quindi non richiederebbe particolarmente tanto spazio. Potrei magari farla sotto quella. Non lo so. O farla sotto la statua dell'Eater. Non lo so. Qualcosa... Però pensavo a qualcosa di sotterraneo, ecco. In modo da non fare degli edifici visibili per una roba che appunto è una questione... Puramente di comodità, ecco. Non è una cosa... Oppure, ecco, farla vicino... No, vicino alla farm non mi piace più che altro perché tecnicamente mi sembrano delle cose scollegate tra loro. Andrei a vedere più che altro nella farm dei minerali... Cioè, nella farm dei minerali, scusate. Nella... Nella casa del trattamento dei minerali se c'è un... Se esteticamente ci sarebbe bene un piano interrato, ecco. Però non serve male come idea il fatto di fare magari un piano interrato qua. Mi sembra l'edificio che più si pressa, diciamo, una cosa del genere. Ecco, magari si potrebbe mettere una scaletta qua sotto e fare un piano più in basso. Dove appunto ci sta lo smistamento di tutta la roba. Quindi direi di... Sì, direi che possiamo fare una roba di questo genere. Quanto andiamo in basso? Io andrei in basso di 4 blocchi. Mettiamo 2 blocchi più 4? Sì. Vede legno? Per fortuna sì. Ma facciamone un po' anche di scale. Ma forse ce ne ho di scale, eh. Meglio andare a controllare la casa perché abbiamo... Mi ricordo che avevamo tante di quelle scale che... Davvero non c'era bisogno di farne altre, ma... Meglio andare a controllare perché poi dopo ci ritroviamo con un'infinità di scale e... E buttiamo legno a go-go. È infatti 38 scale. Sì, mi ricordo perché erano quelle che andavano sull'albero e poi dopo le ho tolte. Quindi sono rimaste là dall'epoca perché poi dopo non abbiamo... Non ci siamo mai ricordati che c'erano le scale... Cioè magari voi sì, io no. Non mi sono mai ricordato che c'erano le scale là sotto e quindi... GG. Allora, mettiamo la scalinata che va in giù. Allora, stavo dicendo due blocchi... E poi uno, due, tre, quattro. Tre, quattro, così. Direi che ci sta abbastanza. Dovrebbero essere sei. Sì, ne avevo 38 e sono 32, quindi sono sei blocchi. Mo io vorrei un attimo seguire... No, facciamolo a caso come grandezza. Sì, andiamo a caso. Più che altro da non andare troppo in là per evitare di finire dove c'è la zona con il geothermal generator che alimentano il tutto per non finire con la lava addosso, ecco. Però... Così, ecco, così dovrebbe bastare. Prendiamo magari... Ah, no, non ce l'ho dietro il... Il mining drill perché stava caricando, quindi... GG, faremo così. Ma credo che come spazio così debba essere sufficiente. Cioè non credo che ce ne sareva tanto di più. Magari la sviluppiamo più che altro in lunghezza. Ci sta, eh. Ma... No, ancora uno. Ah sì, devo togliere la... Lo strato di terra, ecco, anche. Mi sembrava poi se ci fossero dei fossati qua intorno, invece... No, forse no. Ah no, ecco sì, infatti c'era qua sotto. Consisteva un po' di caverne, ecco. Ma non ce ne preoccupiamo troppo, tappiamo un po' tutto e... GG. Così, vabbè... No, io allargherei ancora un attimo. Andrei ancora un attimo più in là. Per ora mettiamo della cobblestone qua. Poi dopo ci pensiamo se sostituire con della stone o cos'altro. Vai, 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 vai! Secondo me sarà una cosa comodissima, perché ora come ora non abbiamo tanta roba, ma dopo, cioè, di andare sempre a svuotare le ceste sarà un po' uno sbatti. Quindi il fatto di automatizzare è bello. In fondo siamo in una moda tecnica, cioè, stiamo facendo un pack tecnico, ecco. Quindi, se non automatizziamo, che pack tecnico è? Cioè, o no? Che dite? A voi piacciono gli automatismi? Ma a me è abbastanza. Diciamo che sono le modi che mi piacciono di più, quelle tecniche. Anche su Minecraft. Per esempio la magia... Mi fa schifo abbastanza. Ma quello in generale, anche nei GDR... Cioè, per me la classe Mago potrebbe morire bruciata su un rogo, ecco. Tanto è il mio interesse per... Ah, qua c'è il caso, vabbè. GG, chi se ne frega. Tanto è una zona di lavori sporchi, non è che... La zona dello smistamento, non è che ha bisogno di essere sexy, dai. Non la vede nessuno, è una roba giusto... Puramente di servizio, ecco. Ok. Mo' dovremmo andare a craftare dei tubi, credo. E capire un attimo cosa vogliamo smistare. Allora, noi avremo bisogno di smistare i minerali di qua. Che i minerali saranno effettivamente copper, iron, quella roba là. Ma come prima cosa diciamo, facciamo una chest che accolga da questa zona qua. No. Meglio non far cavolate. Meglio fare tutto per bene. Allora, noi ci facciamo tutti i teleport tube possibili, immaginabili. Cioè, magari non troppi, perché poi se finiamo il mese siamo nei guai. Ma di mese ne abbiamo 24, quindi un po' possiamo giocarci, ecco, su questa storia. Quattro ce ne da uno. Eh, ne abbiamo bisogno di due per forza. Quindi otto. Giusto solo per il fatto di averne uno là e uno là. Quindi otto ce ne vanno. Poi abbiamo bisogno, allora, segniamo un attimo. Due di base. Di base. Poi ne abbiamo bisogno di due cobblestone. Poi ne abbiamo bisogno di due blocchi, tipo sand, desert sand, cos'altro. Puntini, puntini. Va bene così. Poi ne avremo bisogno di due per... Se no potrei fare una cosa diversa. Potrei fare una cosa ben diversa. Cioè che... Cioè che ne uso solo uno per mandarlo qua e qua poi dopo... Eh no. No, no, sto dicendo una cavolata. No, però sì, potrei risparmiare. Potrei mandare uno solo che porta qua. Che porta qua a casa e poi dopo un sorting che mette i minerali qua e l'altra roba qua. Ma tanto devo fare già un sorting di là e non so se riesco a fare un sorting che ci stanno tutte ste robe. Quindi due per preziosi. Due per minerali. E... Buon, credo. Minerali preziosi, blocchi, cobblestone. E' base. Quindi abbiamo bisogno di due, quattro, sei, otto, dieci. Dovretto non credo che ce ne sarà. La grave va bene anche qua, quindi... Ehm... Nessun problema. Questi li metto qua. Questo anche lo lascio qua. Ehm... Queste anche. Quindi abbiamo bisogno di dieci, quindi abbiamo bisogno di quaranta... Cristalli di mese e non ne abbiamo abbastanza. Quindi la cosa più urgente, diciamo che è quella della... Cobblestone ora come ora. Direi di sì. Quindi, diciamo che iniziare a fare questi... E i sorting invece quanto ci chiedono? Perché chiedono anche mese quelli. Eh, infatti, chiedono parecchio mese anche quelli. Quindi direi che... Ehm... Se noi facciamo... I sorting... Ma di sorting potrebbe bastarcene uno, nel senso che... Noi facciamo un sorting... Da un lato... Vanno... Quelli della cobblestone. Da un lato vanno i blocchi. Da un lato vanno i presi... Abbiamo quattro lati. Quattro lati di un sorting. Quindi un sorting dovrebbe bastarci. Quindi noi facciamo un sorting... Che è con questo e con i cristalli. Quindi dobbiamo scraftare uno di... Cioè dividere uno di questi in cristalli. In frammenti di cristallo. Io li chiamo sempre cristalli, ma sono questi i cristalli. Così, perfetto. Con un sorting dovrebbe bastare. E adesso dobbiamo fare invece i teleporting. Che sono la questione un pochettino più... Sbatti, ecco. Allora, abbiamo bisogno di due tubi... Copper coil, control logic unit e copper coil. Che sbatti. Che sbatti. E non abbiamo abbastanza materiale, tra l'altro. Non abbiamo abbastanza... Mese. Non abbiamo abbastanza mese. Quattro lati... Uno lo usa per arrivarci, in realtà. Quattro lati sarebbero uno sopra... E i tre lati... Cardinali, ecco. Ci sta. Ci sta. Boh, io crafto questo. Noi ci rivediamo tra un attimo, ecco. Ciurmari, eccoci. Allora, ho craftato quattro teleporting tube. Di più non se ne potevano fare. Uno lo devo ancora piazzare. L'altro l'ho piazzato qua. E ho messo il sorting tube. In cui ho messo tre chest. Che dovrebbero essere per i minerali. Per i blocchi e per i preziosi. E qua ho messo l'altro teleporting tube per la cobblestone. Che è su send only. E ho fatto un sistema di tubi nella zona cobblestone, diciamo. Adesso vi faccio vedere. E in pratica... Cioè porterà la cobblestone qua. E essa verrà appunto immagazzinata. Nelle varie chest. Allora, io spero che in questo modo non venga droppata per terra. Se per caso viene droppata per terra, ce ne accorgeremo. Poi male che vada se perdiamo della cobblestone non è grave. Se perdiamo del mese, sì. Se perdiamo della cobblestone un po' meno, ecco. Anzi, credo che tra un po' avremo un problema di cobblestone. Perché avremo davvero troppa cobblestone. E non sapremo più che cosa cavolo farcene. E... E boh. Magari aggiungerò la mod. Cioè creerò la mod quella della compressed cobblestone. E sta roba così. Eeeh... Eeeh... Bon, ecco. Allora, io direi che per ora facciamo... Che mettere il teleport... Allora, stacchiamo il query. Prima cosa. Si è fermato? Si è fermato. Allora, togliamo questo. Mettiamo il... Teleporting pneumatic tube. No, non devi collegarti alla chest, però, porca d'una miseria. No, non me la fa togliere, naturalmente, perché è piena. Eeeh... Beh, vediamo cosa succede. Mi faccio send only. Tanto non dovrebbe prendere quello della chest, ma anche se lo prendesse. Poco male. Quarry, l'ho chiamato così. Ok, se io adesso lo facessi andare, che cosa succede? Sparisce. Sta andando tutto in là, credo. Sta andando tutto in là. Adesso vediamo che cosa succede da quella parte là. Forse avrei dovuto mettere un... Un travel point, diciamo, per andare di là velocemente. Eeeh... Prima andiamo a dormire. Forse conviene. Andiamo a nanna. Ok. E andiamo a vedere ora che cosa sta succedendo di là. Allora, tecnicamente dovrebbe spedire la cobblestone nella stanza della cobblestone. E il resto dovrebbe metterlo in una cesta a caso. Eeeh... Vediamo se effettivamente funziona. Se funziona, lasciamo così e poi dopo penseremo al resto. Diciamo, i minerali, quando si accumuleranno, vedremo un attimo di... Allora, sta mettendo della roba nel chest? No, non stiamo mettendo niente. E' arrivata solo cobblestone? E' possibile, effettivamente. Non è che l'ha scavato tanto. E' possibile che sia arrivata solo cobblestone per ora. E vediamo se per caso arriva della cobblestone di là. Cioè, questo dovremmo vederlo in tempo reale. Dovrebbe arrivare il cubetto. Dovremmo vederlo girare là, nei tubi. Non si vede niente qua. Non si vede un kaiser. Sta arrivando da cobblestone? Non sta arrivando un kaiser. Possiamo essere una messa in qualcun altro? Non sta arrivando niente, no? Non sta succedendo niente. Non è arrivata cobblestone. No, non sta arrivando cobblestone. No, 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 no. Non va bene. Facciamo che andare a staccare il teleport tube là. Che magari è quello che crea casini. E poi andiamo a staccare il query. Perché se per caso ci perde della roba ora. Eppure là spariva. Quindi doveva arrivare di qua, credo. Stacchiamo questo. Se stacco questo succede qualcosa. Arriva dal cobblestone. Qua non si vede niente. Questo è settato su query? Questo è settato su query. Andiamo un attimo di là a vedere molto rapidamente. Per evitare che ci perdiamo quintali di materiale. Ecco, così sparito nell'etere. L'episodio sta diventando un po' troppo lungo effettivamente. Ma voglio risolvere questa questione il più in fretta possibile. in modo da evitare grane, diciamo, per i prossimi episodi. Cosa sta scavando? Sta scavando... Sta droppando... Sta droppando tutta la roba là. Fermi, fermi. Ah, perché non ha il canale. Pupazza, stupido di uno. Perché non mi prende il canale? Send only. Se ti faccio così. Me l'hai preso? Ok. Prova ora. Troppa ancora la roba? Allora, per evitare le grane facciamo una cosa del genere. Tp set. Query. Ok. Adesso andiamo di là e facciamo un tp set o qualcos'altro. Oh, ho mancato quella lavoraggine di pochissimo. E andiamo a vedere un attimo che cosa cavolo... Data do not exist. Eh? Che errori del Kaido sta dicendo? Eh, vediamo se adesso funzeca tutto. No, sta droppando tutto. Sta droppando tutto. Però arriva la roba se non altro. Ma scusi, i canali ce li ha aperti? Sono tutti on, sì. Perché non... Se io rimetto questo e gli dico... Cobblestone... Send only. Query, send and receive. Sta arrivando qualcosa... Non sta arrivando niente. Perché? Perché? Che barba! Forse devo metterci una cesta di mezzo. Tipi set... Sorting, chiamiamolo. Se avessi una cesta attaccata a quello... Ah, non gli va bene perché c'è la cobblestone dentro adesso. Adesso togliamo anche la cobblestone. Vieni qua. Ok. Se ti metto la cesta... Se ti metto la cesta... Ricevi roba? Non ricevi niente. Tipico... Query. Qua... Spedisce. Ma là? Tipi back. Sta arrivando qualcosa? Ah, sta arrivando ora. Arriva. Boh? Ma non arriva un Kaiser. Strano. Ma eppure quella zona là è loadata. Nel senso... Bigo... Query. Beh, rimane su 58. The fuck? Non sta ricevendo più niente. Perché? Perché? Boh, ragazzi. Mi informerò e... Per ora lasciamo come era prima. È buono. Can... Ca far... Qu'è... Il senso... Non riesco a vedere nemmeno la differenza qua Ma la roba sta arrivando 42 44 46 Sì Ma Boh Vabbè Per questo episodio è tutto Vi invito a lasciare un mi piace A iscrivervi al mio canale se per caso non l'avete già fatto Ci vediamo nel prossimo episodio O sabato prossimo O con tutti gli altri episodi settimanali Ciao a tutti Grazie